Buongiorno a tutti e bentornati nel nostro canale. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto vi volevo chiedere una cortesia, non lo faccio mai, volevo chiedervi di iscrivervi al canale, di mettere like a questo canale e di condividerlo il più possibile. Detto questo, mi hanno detto, Mattia non lo dici mai, lo devi dire, va bene, lo dico. Siamo in un posto dove io e Cristina e anche Marco che oggi non c'è, venivamo da ragazzi. Quando eravamo più giovancelli, dobbiamo solo trovare l'ingresso, pensavamo di averlo trovato, o meglio, l'abbiamo trovato, ma in questo momento questo qui è chiuso, quindi dobbiamo trovare un altro ingresso. Adesso vi faccio vedere dove siamo. un attimo. 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 Grazie a tutti. 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 Allora siamo giunti, scusate il buiore perché abbiamo fatto veramente tardi con questa esplorazione. Siamo giunti, siamo giunti appunto al termine, che abbiamo visto una discoteca abbandonata che negli anni 90, anche 80-90 andava veramente per la grande e a suo accanto, proprio proprio accanto, c'era il parco acquatico che abbiamo visto prima. Allora, niente, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.